Ciao a tutti, come far innamorare un uomo? Due passi per conquistarlo, farli impazzire d'amore e renderlo dipendente da te. In questo video voglio spiegarti come far innamorare un uomo, quali sono due passi per conquistarlo, farli impazzire d'amore e renderlo dipendente da te. Ok, allora prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base per lezioni mirate, abbonamento top per lezioni mirate e videoregistrazioni e seminari del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, come far innamorare un uomo? Due passi per conquistarlo, farlo impazzire d'amore e renderlo dipendente da te. Allora, quali sono questi due passi? Beh, le due fasi sono quelle, bisogna tenere presente un po' la psicologia maschile, la psicologia maschile è la psicologia del cacciatore, di quello che vuole cacciare e quindi devi renderti preda, questo è fondamentale, cioè non puoi essere una cessa calzata e vestita, perché se sei una cessa calzata e vestita, o se sei mascolina, o se sei poco attraente, o se sei poco seducente, non riuscirai sicuramente a coinvolgerlo, non riuscirai sicuramente a farli innamorare, questo è un dato di fatto. Un'altra cosa che devi imparare a fare è quella di coinvolgere, una volta che essere preda, cosa vuol dire? Beh, che devi essere appetibile, non puoi, ripeto, devi sviluppare la femminilità, questo è il primo passo, quindi concentrarsi su te stessa, avere autostima, è fondamentale questo, perché devi essere appetibile, un uomo tra l'altro ti troverà appetibile se piacerai, se sarai interessata anche ad altri uomini, se altri uomini saranno interessati a te. Beh, questo è un'altra cosa importante, è un'altra cosa fondamentale, è un'altra cosa che devi sviluppare se vuoi ottenere dei risultati. Ecco, io ti dico esattamente questo, quindi questo è quello che devi imparare a fare, che devi imparare a sviluppare, che sono le cose importanti, basilari della tua vita. Questo, ti ripeto, è veramente importante, è veramente fondamentale. Quindi coltiva la tua autostima e coltiva al massimo la tua femminilità. Essere femminili vuol dire camminare non da bersagliere, ma camminare da donna, ancheggiando un pochettino, usando i tacchi, devi usarli perché camminando, guarda un attimino come camminano le modelle in passerella, quella camminata lì è la camminata più seducente, devi impararla, è fondamentale. Devi imparare a stare seduta da donna, ad accavallare le gambe, utilizzare le gonne e non i pantaloni, utilizzare un abbigliamento non oversize, insomma valorizzarti, ma anche valorizzarti fisicamente. Cioè cerca di, diciamo, insomma di essere femminile, di essere longilinea, di non abbuffarti di nutella, insomma, sono tutte cose che devi imparare a sviluppare. La femminilità è veramente l'unica esca che puoi dare a un uomo, perché se non c'è questa esca qua, questo non si mette in moto. Questo è il primo passo. E ti ripeto, è fondamentale. Perché, come dire, anche l'aspetto visivo, i maschi sono molto visivi, ma anche l'aspetto poi, diciamo, del fatto di vedere che ci sono altri uomini che sono interessati a te è un altro punto veramente importante. E una volta che hai fatto questo, che hai sviluppato questa parte, beh, c'è la seconda fase, il secondo passo. Il secondo passo è quello di imparare, diciamo, il secondo passo è quello di imparare a, diciamo, a mettere dei vincoli. Cioè a mettere in atto dei comportamenti che lo intrighino ancora di più e lo facciano investire su di te. Perché lui si innamorerà soltanto, diventerà dipendente da te se investirà su di te. Quindi devi dargli l'idea di esserci e poi sparire. Farti vedere come è la donna giusta per lui, che ha i suoi valori e le sue credenze, e poi però, diciamo, non prenderli in considerazione. Darli e poi toglierli, avvicinarti e poi allontanarti, fare un po' di tira e molla, fare un po' di push-pull. Deve imparare a essere imprevedibile, a creare tensione sessuale. La prevedibilità distrugge la tensione sessuale. Quando qualcosa, quando una donna diventa prevedibile, diventa noiosa. Gli uomini li coinvolgi con le emozioni, non è detto che siano emozioni positive, li coinvolgi anche un po' sulla sofferenza. Devi diventare un simbolo. Un simbolo è tutto ciò che coinvolge attraverso il piacere, attraverso la sofferenza. Se diventi un simbolo, lui inizierà a diventare dipendente da te, inizierà a impazzire d'amore. E soprattutto quando avrà investito su di te, quando avrà messo energie su di te, avrà fatto un investimento su di te, se a quel punto lì subenta un antagonista, un antagonista che ti potrebbe portare via, che ti potrebbe togliere quello di cui in realtà può avere bisogno, ecco, tutto questo lo coinvolgerà ancora di più. Lo farà innamorare e lo renderà sempre più, diciamo, e lo renderà sempre più coinvolto, lo renderà sempre più, diciamo, lo renderà sempre più dipendente. E nel momento in cui acquisisce dipendenza, nella sua testa, anche se non è vero, diciamo, scatta l'idea, scatta l'idea dominante, io questa donna la amo, questa è la donna giusta per me, questa è la donna che voglio. E quando scatta quest'idea, quando quest'idea si sviluppa nella sua testa, ecco che parte automaticamente il messaggio, io quest'uomo lo voglio, io questa donna la voglio e farò di tutto per conquistarla. E inizierà a investire ancora di più su di te. Quindi si creerà un ciclo virtuoso per cui perderà veramente la testa, diventerà dipendente e si innamorerà. E per te sarà disposto a fare delle cose che per altre donne non avrà mai fatto. Ecco, questo è l'unico modo vero per coinvolgere un uomo, è l'unico modo vero per far innamorare un uomo. Sono i due passi fondamentali per conquistarlo, farlo impazzire d'amore e renderlo dipendente da te. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividerlo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.